Al via in settimana quattro nuove opere per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali in prossimità di rotatori e semafori, un lavoro che si protrarrà per due mesi e mezzo per un importo di 200.000 euro. In particolare saranno realizzati attraversamenti ciclabili e connessione alle corsie ciclabili esistenti sulla rotatoria all'intersezione tra via Aldomoro e via Levicenza. Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale e ciclabile alla rotonda tra via Aldomoro e via Santi, Fortunato e Lazzaro e la connessione alle corsie di via Aldomoro nella parte nord, attraversamento pedonale semaforizzato su viale De Gasperi e l'altezza di via Travettore, delimitazione di corsie ciclabili all'altezza dei semafori lungo viale Venezia. Ci siamo ispirati sempre un po' ai modelli altoatesini, abbiamo molta strada da fare, però credo che il lavoro fatto fino ad oggi sia importante, ma soprattutto quello che vedremo nei prossimi mesi lo sarà ancora di più.